Il disagio giovanile talvolta può derivare da componenti genetico-caratteriali esistenti fin dall'infanzia. È il caso di Giuseppe, il 21enne, che nel 2014 si è tolto a Milano la vita. È stato sempre un bambino chiuso, ricorda il suo papà. Stiamo parlando di un figlio molto difficile, chiuso in sé stesso fin da bambino. Io ricordo sempre che lui già sapeva camminare e comunque voleva che io gli tenessi ugualmente la mano. Aveva paura di tutto ed è nata così questa paura enorme del mondo, la difficoltà di avere un rapporto con la vita, che andasse oltre al rapporto uno a uno. Alla fine viveva barricato nella sua camera, quindi l'elemento caratteriale era molto forte. Il primo di tre, amatissimo, però comunque è nato così e non c'è stato niente da fare. Tutti gli sforzi che abbiamo profuso mia moglie ed io non sono serviti a niente, proprio come deviare il letto di un fiume. Marco ha deciso di scrivere un libro, L'amore che non ho fatto in tempo a dirli, su quanto accaduto a Giuseppe. Un modo per cercare di affrontare l'immenso dolore, allora come ora, per la morte del figlio. Perché ho scritto? Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che il dolore era ed è tuttora fortissimo. In assenza di un mancato elemento compensativo, il cervello parte, il scoppio. In tutto questo si può dire che io ho avuto la fortuna che mi è sempre piaciuto scrivere, sin da bambino. Qualche anno fa io ho subito un'operazione a cura aperto e per la prima volta mi sono drogato, mi hanno dato la morfina. Scrivere era come la morfina che serviva per tollerare il dolore dello sterno. La morfina non è curativa, però consente di coprire quel dolore. È la stessa cosa quando io scrivevo. Non è che Giuseppe tornava indietro, però comunque avevo la sensazione che non sentivo il dolore, che Giuseppe fosse con me. E questo è il motivo per cui ho scritto Giuseppe e mi piace parlare del libro che gli ho dedicato. Ogni volta che io ne parlo lo ritrovo. Grazie.